Salve amici del Centro Meteo Italiano. Giugno inizia con tempo via via più stabile, ma non mancherà qualche insidia. Vediamo allora gli ultimi aggiornamenti fino al prossimo weekend. Per il giorno della Festa della Repubblica, la situazione sinottica sull'Europa vedrà un promontorio anticiclonico in rimonta sul Mediterraneo occidentale. Sull'Italia avremo nuolosità medio alta in transito e qualche pioggia non esclusa, soprattutto su Alpi e Appennino. Temperature massime e gradevoli e in generale non superiori ai 25-28 gradi. Nella seconda parte della settimana il promontorio si rafforzerà e si fonderà con un altro vasto campo di alta pressione presente sulla Scandinavia. Almeno fino a sabato, tempo in prevalenza stabile sull'Italia, con clima estivo e temperature che potranno localmente toccare i 30 gradi, specie al centro-sud. Maggiori incertezze tra la fine del weekend e l'inizio della prossima settimana, quando i principali modelli mostrano l'arrivo di una piccola saccatura atlantica sul Mediterraneo con conseguente peggioramento meteo. Vi invitiamo allora come sempre a seguire tutti i prossimi aggiornamenti, sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Grazie.